Buongiorno a tutti, nell'ambito dei festeggiamenti dei dieci anni di sinestesia, oggi parliamo di People and Inclusion insieme ad un ospite veramente d'eccezione, un altro torinese doc, ed è Walter Rolfo. Grazie Walter. Grazie a te, grazie a voi, è un piacere essere qui con voi e parlare di futuro, di persone, di impossibili. Bene, senti, nella tua vita tu hai fatto tantissime cose, mago, illusionista, consulente di grandi aziende, hai fatto veramente tantissime cose e qual è il filo conduttore, il fil rouge tra tutte queste attività che tu hai fatto? Allora, tutto nasce da bambino, quando sei bambino io ho iniziato a fare il mago, lo continuo a essere lucidamente schizofrenico, perché sono nato mago, mi sono involuto e voluto ingegnere, quindi vivo un po' confuso, con una bacchetta magica nella mano destra con la quale inseguo sogni, è un folle excel nella mano sinistra con il quale cerco di realizzarli. Ho iniziato da bambino a fare il mago e quando sei piccolo, metti una moneta in mano e cerchi di travi il segreto per farlo sparire, è buffo perché mentre i tuoi amici sono fuori che giocano, si divertono, corrono all'aria aperta, tu chiudi la porta di casa, anche della stanza, perché nessuno ti spi e cerchi di far sparire questa moneta. Passano i giorni, le settimane, i mesi e se li conti anche i minuti, finché a un certo punto la moneta sparisce. Il dono grande è che ottieni, non è il trucco per far sparire la moneta, chi se ne frega il trucco, non è importante, ma il segreto vero che ottieni è che se insisti, insisti, insisti e non ti arrendi mai, puoi realizzare l'impossibile. Ecco, questo è il dono più grande che mi abbia fatto la magia e credo che sia il filo conduttore di tutto quello che ho fatto, perché poi ho inseguito mille vite e sono andato a vivere in America a fare il mago in un casino, poi sono tornato e ho iniziato a lavorare in televisione, poi sono diventato autore e capo progetti in Rai. Ecco, diciamo che il grande vantaggio è che avessi la convinzione profonda che insistendo fino in fondo si potesse realizzare l'impossibile. E quindi se devo dire che cosa abbia unito tutto è la convinzione che la vera difficoltà è capire dove andare e poi un metodo si troverà sempre. Quindi se dovessi dare un consiglio è capite dove andare, se avete un impegno profondo con voi stessi e con gli altri, dichiaratelo, perché se lo dichiari per i principi di coerenza poi cerchi di raggiungerlo, ma nel momento in cui sai dove andare c'è sempre un modo per arrivarci. Ecco, questa è la convinzione profonda, quindi che l'impossibile non esista, ma sia fondamentalmente un limite della nostra mente. Più volte hai affermato che bisogna uccidere delle parti di sé per poter costruirne altre. E come riesci a fare questo? E soprattutto quando capisci che è arrivato il momento di uccidere una parte, di cominciare una nuova avventura, una nuova parte della tua vita? Io credo che si debba prendere coscienza che c'è un'età per tutto. Perché il problema è che molte volte noi cerchiamo di rubare anni alla vita e non ci rendiamo conto che invece ogni età ha un modo di essere, un modo di fare, un lavoro, una famiglia, delle persone con cui vivere e non c'è niente di sbagliato nel vivere al meglio quello che hai come occasione in quel momento, ma devi renderti conto che magari non può essere per sempre. Io ho iniziato, come dicevo prima, a fare il mago da piccolo e quando poi sono diventato capo progetto in Rai, il direttore di Rai 2 mi disse Rolfo, adesso devi prendere una decisione perché già la gente crede poco ai giornalisti, se fanno puri maghi non ci crede nessuno. E lì ho preso le carte al chiodo perché c'è un'età per tutto. Mi sono reso conto che se a 40 anni, 45, avessi fatto il mago come facevo da bambino, sarei stato un dissociato. Il problema è vivere un'età che non ti appartiene più. E avere il coraggio di cambiare ha una valenza in tutto. Io infatti scherzando dico appunto che ho ucciso il mago per poi nascere come ingegnere, come formatore, come conduttore, come adesso in qualche modo fondatore di Masters of Magic. Ma capita nella vita personale, devi avere il coraggio di uccidere il bambino per diventare uomo, devi avere il coraggio di uccidere il ragazzo perché in quel momento vi prendete responsabilità, devi avere il coraggio di uccidere dei rami di business per interprendere nuovi, perché tanto se non lo prendi tu, se non prendi tu questa coscienza, la vita la prenderà per te. Ci sarà un momento in cui non starà più bene a te oppure non stare più bene a tua la vita. E quindi il segreto secondo me è quando sei al massimo di quello che stai vivendo, iniziare un minuto prima a pensare che era il tuo momento di saltare, perché se non vivi nel futuro, alla fine il futuro ti riporta con i piedi per terra. Si chiama Signore del Concorde, tu mi chiedi come fare a cambiare. Adesso vi racconto delle cifre che non sono vere, ma è solo come a mero titolo esemplificativo. Il Concorde è una coproduzione franco-britannica, quindi hanno costruito questo aereo bellissimo che era l'aereo che deve andare più veloce del suono. Costruiscono l'aereo, mettete che spendano 100 milioni di sterline. Quando l'hanno costruito si sono resi conto che però, purtroppo, faceva troppo rumore e quindi spaccava tutte le piste, spaccava tutti i vetri delle case vicino agli aeroporti. Allora hanno detto, dobbiamo riprogettare i motori, costa 50 milioni di sterline. Cosa facciamo? Li spendiamo oppure no? Beh, abbiamo già speso 100 milioni, spendiamo altri 50. 150 milioni costruiscono i motori, poi dopo abbiamo costruito, hanno detto, però adesso costa troppo caro volare. Quindi se abbiamo così pochi posti, non diventerò mai delle spese. Dobbiamo aggiungere posti, ma dobbiamo riprogettare tutta l'aereo e quindi ci vogliono altri 50 milioni. Bene, abbiamo già speso i 150, spendiamo altri 50. E poi hanno detto, però i freni non vanno bene, c'erano le piste troppo lunghe, c'erano 50 milioni. E hanno speso altri 50 milioni. E così alla fine di tutto hanno speso, questo è vero come dato, 400 volte, il 400% dell'investimento iniziale. Finché poi c'è stata la tragedia di Orly dove il concordo è precipitato. Ecco, se avessero avuto il coraggio di buttare via i primi 100 milioni, non avrebbero speso il 400% in più e avrebbero salvato delle vite. Ecco, molte volte noi nella vita ci incaponiamo in processi, in attività, in relazioni che sono palesemente fallimentari perché non abbiamo il coraggio di cambiare e il coraggio di perdere. Allora Walter, per noi in sinestesia il tema delle persone e dell'inclusione è centrale nel nostro modo di fare azienda. E come ci raccontavi prima, tu sei anche consulente in grandi aziende, quindi vivi anche questi contesti aziendali. Come la vedi la situazione in Italia rispetto a questi temi e qual è la tua opinione ovviamente rispetto a questo? Da ingegnere parto dai numeri. Allora, le aziende che sono realmente inclusive, quindi concretamente inclusive, hanno un fatturato maggiore del 16% rispetto ad aziende simili in mercati simili. E l'80% delle persone in Italia è più propense ad acquistare prodotti di aziende realmente inclusive. Quindi vuol dire che solo 1 su 5 in Italia è insensibile al concetto di inclusività. Quindi dal punto di vista del performance è oggettivo che esseri inclusivi sia un vantaggio. Non solo, dal punto di vista anche delle persone e quindi anche dal punto di vista delle performance non soltanto numeriche, c'è un clima aziendale migliore. L'altro grande vantaggio è che attiri più i talenti. Dal punto di vista del manager c'è un miglioramento dei costi perché c'è meno assenteismo, meno malattia e soprattutto c'è una maggiore proliferazione di idee perché c'è una maggiore creatività. Quindi è oggettivamente un vantaggio essere un'azienda inclusiva. E questo mi serve perché se posi delle basi importanti sui numeri da qui puoi costruire tutto il resto. In realtà quello che io credo è che non è solo il concetto di avere performance migliori, ma un'azienda migliore perché è fatta da persone migliori. E quindi questo si riverbera in tutto. Cioè persone migliori sono persone che trattano meglio i clienti, sono persone che hanno a cura il cliente, sono persone che hanno a cura le persone con cui lavorano, sono persone che se devono fare una notte in più per chi fa creatività, per creare un progetto che possa essere utile o che possa aiutare un cliente, lo fanno volentieri. E quindi non è solo... è una selezione all'accesso. C'è una frase molto carina di Gruccio Marx che diceva io non farei mai parte di un circolo che accettasse uno come me tra i soci. Cosa vuol dire? Che in questo circolo, che è quello delle persone inclusive, non entrano le persone che in qualche modo non sono inclusive. E quindi è un automiglioramento. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia è lunga, che è una nazione lunga, è una nazione che ha mille sfaccettature, mille variabili. E' ovvio che se tu vai in grandi città, in grandi metropoli, dove hai aziende multinazionali con un'attenzione particolare, è più facile trovare l'inclusività e l'inclusione e una migliore gestione delle persone che poi ha mille sfaccettature, che non è soltanto di razza, di genere, ma è anche per esempio accettare un papà che dovrebbe avere del tempo per curare i figli o per allattare i figli, un papà sto dicendo, quindi o una mamma. L'inclusione ha mille sfaccettature. Noi attualmente, soprattutto in un ultimo periodo, banalizzandola, pensare soltanto di genere o di razza, ma l'inclusione è anche nell'accettare una persona che magari in quel momento non è tanto felice e ha bisogno di una coccola in più. Cioè l'inclusione è molto più profondo di quanto in questo momento i media o i media stiano raccontando. Come dicevamo prima, dare forma alle aspirazioni è un po' come trasformare l'impossibile in una cosa possibile. E a tuo avviso è possibile immaginare un futuro dove effettivamente c'è più inclusione, anche nel concetto più allargato che dicevi prima, quindi non solo di genere o di razza, ma in generale più inclusione nel mondo? Io credo di sì e credo che sia una valanga che ormai è iniziata e con velocità diverse, modalità diverse non si possa e non sia giusto fermare. Credo che sia un bisogno e soprattutto vedendo quello che sono le nuove generazioni ti rendi conto che già appartiene a loro molto più di quanto noi, purtroppo avendo ovviamente dei background diversi, non noi noi, ma noi come generazione stiamo vivendo. Ho amici che hanno figli e mi dicono che a scuola non c'è più differenza di niente, non stupisce più nulla, è molto più libero. Quindi credo che sia una valanga che sia partita e meno male. Uno dei punti di svolta fondamentali nel concetto di inclusione, ma anche di attenzione al pianeta e di sostenibilità, fu la scoperta della Luna. Quando l'uomo è arrivato sulla Luna sono cambiate tre cose fondamentalmente. Uno a me è molto caro, il concetto di impossibile, perché fino ad allora andare sulla Luna era impossibile. Da quando Armstrong posò il primo piede sulla Luna nel 69, si erradicò il concetto che nulla fosse impossibile. E quindi la differenza si è espressa anche nel modo di parlare, non si dice più è impossibile, si dice quando si farà. Perciò nessuno ha dubbio che andremo su Marte, è solo questione di quando. Nessuno ha dubbio che colonizzeremo l'universo, quando. Nessuno ha dubbio che ci saranno delle nanotecnologie che cambieranno totalmente il nostro modo di vivere e anche la medicina, quando. Quindi ha annullato il concetto impossibile e ha creato il concetto di quando lo faremo. Il secondo grande cambiamento è stata la sostenibilità, perché quando dallo spazio si è vista la Terra, ci si è resi conto che per quanto a noi è sempre grande, sia un piccolo pallino sperso, un piccolo puntino blu sperso nell'infinito. È una metafora bella sempre di Armstrong che ha avuto la percezione di pensare alla Terra come una barca in mezzo all'oceano, circondata dalle acque, dove nessuno può scendere, nessuno può salire, non ci sono altre risorse da prendere e non ci sono risorse da buttare. Quindi tutto quello che c'è è lì e questa è la Terra. E da lì, di fatti, quell'anno successivo sono nati poi i movimenti ambientalisti, i primi in Australia, perché si è capito che dovevamo iniziare a far fortuna, sto dicendo a far legna, ma non voglio essere fraintesa, a far fortuna con quello che avevamo. Il terzo grande cambiamento è stato, ma per l'incibacco, nel mondo, ci sono persone che ancora vivono segregate, c'erano sui pullman in quegli anni le zone per le persone di colore e per i bianchi, c'erano le scuole e quindi il messaggio che è passato è siamo andati sulla Luna, l'uomo è così evoluto, siamo così bravi da poter andare sulla Luna e ci sono ancora delle scuole dove ci sono i banchi per le persone bianche e per le persone di colore. Ma cosa siamo veramente? E da lì è poi partito tutto con vehemenza quella che poi è stata la grande rivoluzione che ha portato Obama poi dopo 40 anni alla presenza degli Stati Uniti. Quindi due cose, è una valanga che è partita, i giovani sono parte di questa valanga e la guidano e questa è una grande fortuna e una speranza del futuro e se non riusciremo noi che siamo un po' più grandi, un po' più adulti a fare veramente dell'inclusività, della condivisione, dell'accettare le persone, il nostro mantra, abbiamo sprecato vita, battaglie e tanta storia e tanto passato. Walter, quindi che cosa manca secondo te alle aziende e alla società per poter veramente evolvere da un punto di vista sociale e culturale? Manca la convinzione profonda che sia giusto, che vada fatto, che si debba fare e che dobbiamo farlo noi. Perché molte volte, non so se sia un neologismo da me creato o esiste come termine, molte aziende fanno inclusion washing, cioè come c'è green washing, fanno inclusion washing. Fa figo, fa cool dire che siamo inclusivi, fa cool dire che per noi è tutto uguale, che siamo aperti, perché va detto. Poi però non c'è la convinzione profonda di farlo, perché non è solo dirlo, va poi messo in atto con formazione, va poi messo in atto con atteggiamento, va poi messo in atto con premi che in qualche modo valorizzino chi realmente lavora nell'ambito dell'inclusione. Quindi ci vorrebbero che la convinzione profonda vada fatto, evitare l'inclusion washing, se si può chiamare così, e ci vogliono quindi capi, leader, che abbiano veramente a cuore l'idea di portare nella propria azienda il credo dell'inclusività e che quindi siano portatori, siano proattivamente rivolti a far sì che l'inclusione si permei la vita aziendale e che siano pronti ad ascoltare quello che viene dal basso, dal basso dalla base, perché soprattutto i giovani, i neoassunti, saranno un volano importante. Sempre per restare in tema di Luna, un film che vi consiglio di vedere, il diritto di contare, candidato a te del premio Oscar con Kevin Costner, è un film bellissimo, che racconta la storia vera di Katherine Johnson, che è una matematica geniale del secolo scorso, di colore, ed è stata la prima donna di colore a entrare in un team della NASA, dove erano ovviamente tutti bianchi wasp, perciò l'hanno ghettizzata, trattata malissimo, il film racconta che dovesse andare in bagno a un chilometro di distanza, ma pensa che come accidenti è già cambiato il mondo e come vivevamo male prima, perché in quella parte dello stabilimento non c'erano i bagni per le persone di colore, quindi lei deve fare su un chilometro a piedi andare e tornare per poter andare ai servizi. E la scena bella, che ti fa capire che comunque ci deve essere la volontà da parte di tutti, proprio dal basso c'era la spinta di una maggiore integrazione, e Kevin Costner, che è il capo, quando scopre che lei ovviamente fa ritardo perché deve andare in bagno e ci mette, pur correndo veloce, 40 minuti tra andare e tornare, prende una spranga e abbatte il cartello dove c'è scritto bagni solo per i bianchi. In modo tale da un segnale a tutti quanti che le cose devono cambiare. Quindi ci vogliono secondo me convinzioni profonde, ci vuole la volontà di farlo e ci vogliono capi, manager, che in realtà non lo dicano soltanto ma credano profondamente che l'inclusione sia importante. E che soprattutto abbiano le orecchie aperte perché dalla base, dai giovani, da chi in qualche modo lavora con te, ci sono segnali importanti che vanno ascoltati se vuoi veramente cambiare le cose. Al TEDx di Trastevere tu hai detto che per realizzare l'impossibile bisogna pensare come un mago, a parte che l'intervento era veramente spettacolare. Ma come ragiona un mago davanti a una simile sfida? Allora, interessante perché è sovverto un paradigma. Noi tutti pensiamo che un mago sia un problem solver, cioè uno che risolve problemi impossibili. Invece il mago è un qualcosa di più, perché che risolve problemi è scontato. In realtà il mago è un problem setter, cioè setta dei problemi che sembrano impossibili e quindi lui deve prevedere già la soluzione nel preparare il problema. So che spiegato così non è facilissimo. Cerco di formulare. Il prestigiatore è un problem setter che crea delle premesse false che generano dei problemi apparentemente impossibili. Se io metto una moneta nella mano, la moneta non può sparire. Ma perché? Perché la moneta nella mano non può sparire. Dov'è la falsa premessa? Che probabilmente la moneta non è nella mano, oppure che la moneta non sia una moneta. Magari la moneta è di ghiaccio e si scioglie. Ma se io ti metto, ti radico la convinzione che io abbia una moneta vera nella mano in questo istante, ovviamente non può sparire. La falsa premessa, quindi, ti porta a un problema apparentemente impossibile. Sono tutte false premesse che tu ti dai e come nel concetto di magia generano poi dei problemi apparentemente impossibili. Quindi per realizzare l'impossibile devi operare sulle premesse. Le premesse sbagliate sono quelle che imbutano il ragionamento. Nel nostro caso, quindi, per avere delle aziende più inclusive io credo che vadano cambiate le premesse. Attualmente le premesse con cui viene veicolato questo discorso è sì perché se tu non sei inclusivo è molto male e perciò tu sei in un concetto di fuga oppure da un problema. Ma non tutti reagiscono allo stesso modo. Nel cambiare le premesse tu non devi mostrare, dire o minacciare che è male non essere inclusivi, ma devi mostrare i grandi vantaggi dell'essere inclusivi. Quindi se dovessi pensare come un mago, penserei a cambiare le premesse. Non bisogna essere inclusivi perché è male, bisogna essere inclusivi perché è bene e raccontare tutti i motivi per cui essere inclusivi è bene e raccontando questi motivi le persone sono più portate a seguirle. perché ovviamente se io vedo un vantaggio concreto, reale, ovviamente sono più portato ad andare verso quella strada. E quindi secondo me le persone alla fine vengono motivate da degli obiettivi da raggiungere, da dei vantaggi da ottenere, da dei obiettivi da conquistare, diamo degli obiettivi. Non diciamo solo che è male essere una brutta persona se non sei inclusivo, diciamo perché sei speciale se invece hai il coraggio di essere inclusivo. Walter, quali sono gli insegnamenti che ti piacerebbe lasciare alle prossime generazioni? Io credo che forse l'insegnamento più importante sia di aiutare le persone a trovare un sogno. Perché non esistono sogni giusti o sogni sbagliati. Esistono persone che hanno sogni e persone che non hanno sogni. E il vero motivo per cui le persone non realizzano i propri sogni è perché non ne hanno. Se io chiedessi a te o tu magari sei una persona che è piena di sogni e di vita, ma tutte le volte in cui faccio questa domanda qual è il tuo sogno? Il 90% delle persone inizia a fare così. Dunque ne avevo uno, eh? Sì, poi però... E man mano che si cresce si ha sempre meno contezza che si possano realizzare i sogni. Quindi sia per le future che per le nostre che per le passate generazioni il mio consiglio è createvi i sogni continuamente. Ispirate i sogni nelle persone che amate. Regalate i sogni alle persone. Perché tantissimi non sono in grado di trovare il proprio sogno. Quindi aiutateli ad avere un sogno. Io poi da ingegnere amo chiamare i progetti sogni perché non mi alzerai mai al mattino per un progetto ma mi alzerai volentieri per eseguire un sogno. Quindi da ingegnere non parlo di sogni tipo la manna dal cielo e la pioggia che scende ti bacia oppure l'energia che ti guida, la conquista di cose. No, io parlo di cose concrete. Chiaratevi dei progetti e una volta avete un progetto come diciamo all'inizio trovate un modo di realizzarlo. Questa è per me la più grande lezione. E anche quando siete visti che sia un po' un po' più giù sia magari quell'attimo di malinconia che sconfina quella depressione il segreto per me è mettetevi di buzzo buono e trovate qualche cosa che vi faccia battere il cuore. C'è. come farlo? Scrivete su un foglio mille sogni scrivete qualunque cosa anche la più folle e poi cercate quella che vi accenda di più e iniziate a inseguirla. Questo è il primo grande insegnamento insegnamento non mi permette un insegnamento è il primo grande consiglio che mi permetto di lasciare. La seconda cosa è martellare come dei fabri cioè il vero segreto è per realizzare i sogni e non arrendersi mai. La vita è semplice la vita va su e va giù per tutti. Non c'è nessuna cabella vita che fa così un'ascesa verticale verso successo. La vita è semplice va su e va un po' giù quando va su godiamoci perché noi non sappiamo goderci le cose che vanno bene e quando va giù facciamo conto che siano le più basse possibili cioè facciamo sì che i picchi diamo valore ai picchi e le valli cerchiamo di far sì che siano le più piatte possibili. Non esiste una vita che fa così esiste una vita che se siamo bravi fa così una sinusoide a cui noi tagliamo la parte bassa e poi martellare. Io mi sono reso conto che tutto quello che ho fatto nella vita che ho realizzato nella vita piccolo o grande che sia deriva da un martellamento. Martellare nel senso non di fare il fabbro di forgiare spade nel senso di non mollare mai. Mi piace dire martellare anche se se magari può dare idea dello stalker ma perché è un'immagine forte e quando la vita in qualche modo ti butta giù ecco il segreto è insistere, 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 insistere e quando insisti, insisti, insisti alla fine tu hai sempre una soluzione. questi secondo me sono i due grandi consigli che mi permetterei di dare a chi è più giovane o a chiunque abbia bisogno in qualche modo di resettare un attimo. Creati un sogno e insisti come un fabbro batti come un fabbro non mollare mai e vedrai che così c'è sempre un modo di realizzare questo sogno e soprattutto anche se non lo realizzi sei stato sulla strada che porta la felicità. Walter siamo arrivati all'ultima domanda quella un po' da sfera di cristallo poi tu sei un mago quindi mi aspetto grandi cose. Che cosa vedi nel futuro nei prossimi dieci anni? Cosa vedi? Come vedi il mondo? Sono un ottimista pazzesco e quindi in quanto ottimista io penso che il futuro sia un posto meraviglioso. Siccome tra l'altro sarà casa cioè sarà il posto dove stiamo andando in questo momento stiamo facendo un viaggio verso un luogo dove poi dovremo stare allora mi piace pensare che questo luogo debba essere bello debba essere un luogo che io contribuisco a creare bello e debba essere il posto dove viverò e quindi devo farmi un piacere e devo trovare dentro questo posto tutti i motivi per cui io possa vivere al meglio perché il futuro non torna mai indietro questo è importante non siamo mai tornati indietro non è mai successo che una volta inventata la macchina siamo tornati ad andare in carrozza quando hanno inventato l'MP3 non abbiamo più utilizzato la cassetta quindi pensare che se il futuro non ci piace si possa andare avanti indietro è anacronistico folle ma anche stupido quindi noi andremo nel futuro ci stiamo andando immagino il futuro come un terreno che viaggia veloce e tu non puoi scendere dal terreno che non ti faccia molto male quindi puoi o starci in piedi scomodo oppure sederti e godertela noi da qui tra l'altro in avanti si dice secondo il Financial Times che noi faremo un salto in avanti dal punto di vista della tecnologia più grande nei prossimi dieci anni di quanto noi abbiamo fatto dalla prima rivoluzione industriale ad oggi cioè le rivoluzioni tecnologiche che vivremo da qui ai prossimi dieci anni sono più grandi importanti e straordinari di quello che abbiamo vissuto prima cioè nei discorsi di duecento e rotti anni perciò dal punto di vista del nostro modo di vivere dobbiamo essere pronti a cambiare accettare il cambiamento godere del fatto che stiamo vivendo in un'epoca straordinaria piena di sorprese e non dire ah mi spavento un po' questa cosa perché non c'è più tempo non è più un futuro è un adattamento continuo e di fatti i giovani in questo sono più fortunati c'è un aneddoto bello raccontato da McLuhan il grande massimediologo del secolo scorso che racconta di due pesciolini che nuotano giovani piccoli a un certo punto si avvicina un pesce grande e dice eh ragazzi com'è l'acqua e i pesciolini acqua? quale acqua? perché chi è giovane ovviamente non ha la percezione che le cose cambino anche perché tutto va molto più veloce noi per passare dal telefono così al cellulare abbiamo impiegato vent'anni per passare da un cellulare senza foto a un cellulare che fa le foto meglio della migliore marca fotografica del mondo sono passati cinque anni quindi il futuro va veloce e per me è un posto meraviglioso e per noi che dobbiamo andarci dobbiamo imparare a goderne già da adesso e soprattutto io ritengo che paradossalmente per quanto avremo a che fare con l'intelligenza artificiale non sarà un sostituirsi all'uomo ma sarà un collaborare con l'uomo ma paradossalmente le emozioni saranno quanto mai importanti perché in un futuro tutto quello che non fa battere il cuore ai nostri clienti o alle persone con cui collaboriamo sarà una commodity e le commodity si compran su Amazon quindi qualunque lavoro voi facciate qualunque sia la vostra vita qualunque sia la vostra attività chiedetevi che cosa potete fare voi oggi che non potrà fare una macchina domani perché in questa risposta c'è il nostro futuro Walter grazie veramente è stato più bello di quello che mi immaginavo immaginavo che fosse bello ma non così tanto sei stato veramente eccezionale ti ringrazio per la tua partecipazione a questa nostra festa quindi grazie grazie Walter grazie a te grazie a voi